E' uscito di casa a notte fonda, violando l'istituto della sorveglianza speciale, messo a rofermato e controllato dei carabinieri della locale stazione fino a un rocambolesco in seguimento per un 45enne dentro d'acqua, GB le sue iniziali, e scattato l'arresto l'altra notte per aver violato le disposizioni della magistratura, spostandosi peraltro dalla sua abitazione senza una comprovata necessità. Dalle informazioni raccolte si è appreso che il 45enne, soggetto alla sorveglianza speciale, avrebbe violato la disposizione della magistratura la scorsa notte intorno all'1.30. Fermato dai carabinieri si è dato alla fuga ed è stato inseguito l'incorso dei militari per le campagne del territorio comunale di Introdacqua. Una scena da film se si pensa che l'uomo ha abbandonato la sua auto lungo la strada per poi fuggire in aperta campagna e fare rientro nella sua abitazione dove è stato fermato, arrestato dai carabinieri. Questa mattina è stato celebrato il processo per direttissima. In tribunale il giudice ha convalidato l'arresto, rinviato all'udienza del prossimo 22 aprile, concedendo i termini a difesa dall'avvocato Alessandro Margiotta, che assiste il pregiudicato, il quale su disposizione del tribunale è stato tradotto nel carcere di Via Lamaccio per l'esecuzione della misura cautelare.